Ciao a tutti, questo video ha stato fatto per dimostrare alcune applicazioni di TEMPLUM STUCCO e la tecnica TSR. La fase 1 è la preparazione del prodotto. Per preparare TEMPLUM STUCCO necessitiamo una scala digitale di precisione. Il colore del modello è ottenuto con l'aide di pigmenti di TEMPLUM STUCCO. Quando l'esatto colore è ottenuto siamo pronti e questo non va cambiare dopo il settore o l'esercito del TEMPLUM STUCCO. Quindi prendiamo solo la quantità necessaria per la nostra ricostruzione. La fase 2 è la catalizzazione del prodotto. Aggiungiamo esattamente 4% del prodotto di TEMPLUM STUCCO e lo mischiamo veramente per assicurare il rischio exacto. Questo è un esempio di una piccola ricostruzione di TEMPLUM STUCCO. Puoi usare una piccola cittura per simulare la finitazza della superficie originale. Come potete vedere sull'esercito del TEMPLUM STUCCO, il TEMPLUM STUCCO non resta la superficie originale. Questo è un esempio di una ricostruzione verticale. di una ricostruzione verticale. di una ricostruzione verticale. Inoltre riproduciamo la texture usando una piccola cittura. di una ricostruzione verticale. Questo è un esempio di una ricostruzione verticale. Usando pigmento di TEMPLUM STUCCO. Inoltre riproduciamo una ricostruzione verticale. Questo è un esempio di una ricostruzione verticale. Questo è un esempio di una ricostruzione verticale. Ma anche di una ricostruzione verticale di TEMPLUM STUCCO. Contatto, dopo aver pulito, ed è dipenduto. Inoltre riproduce. Il servizio di TEMPLUM STUCCO ma senza rimbalo. Il servizio di TEMPLUM STUCCO. Questa è la dimostrazione della reversibilità del templo un stucco con l'utilizzo di acqua di acqua con una temperatura di above 150 gradi. Questa è la dimostrazione della reversibilità con l'aide dell'alcol. Appliato come poltice o iniettelato tra le superfici di contatto con l'aide dell'alcol. Questa è un'altra parte. Questa è un'altra parte. Questa è un'altra parte. Questa è la parte di cui la ricostruzione è perfettamente clean. Questa è un esempio di TSR. che è l'acronimo dell'italiano tessellazione senza regolarizzazione. Questa significa che in questo caso la ricostruzione è fatta con pinze. Per ottenere la possibilità di ridurre la parte di ricostruzione. Questa è la parte di cui la ricostruzione è perfettamente clean. Questa è la parte di ricostruzione della TSR. La cronimo del sistema è una parte di ricostruzione. This is an example of a reproduction with the help of a mold in silicon rubber like silica 120 or silica 110 that was previously prepared here we have the molding operation here you can see the perfect replica of a decorative element you can see the finishing texture we can have with the tempurum stucco very similar to natural stone and this is our mold to conclude these are some application of tempurum stucco thanks for watching the video and remember to subscribe to our channel and to click on the bell button to receive notification on our next video